Nino, campione italiano nonostante tutto? Eh sì, nonostante tutto, hai detto bene, nonostante i dolori, oggi sono riuscito a tirare su dei pesi che sono belli importanti. Grazie anche a che cosa? A un motto importante, Nino! Eh, questo motto è importante, c'ho due hashtag che adesso stanno spopolando su Instagram e anche su Facebook, sulla mia pagina, che sono hashtag Cafudda e hashtag Noncinceneppennudo. Accafuda significa mena, detto anche in romano, non ce n'è per nessuno, non ce n'è più nudo. Tre nuovi ori e ora ti riposi un po', riposi e soprattutto ti curi un po'? Beh, riposare è un parolone, dai, allenteremo un po' la presa, però certo bisogna curarmi bene perché per allenarsi bene vi devo prima curare, però piano piano ci alleneremo costanti, non forzando troppo e si andrà avanti. Raunino, grazie! Grazie! Grazie!